Un autentico miracolo sportivo, quello dell'Atletic Grottolella, dato da molti per spacciato dopo il girone d'andata. I gialloverdi di Mr. Vincenzo Spagnolo, al loro primo anno nel campionato di prima categoria, sono riusciti a rialzare la testa e ad ottenere una salvezza senza patemi, evitando anche gli spareggi play-out. Un'autentica e propria impresa dopo le due promozioni consecutive. Non è stato dubbio, purtroppo avevamo messo in preventivo che sarebbe stata una stagione dura, difficile, però non pensavamo che le difficoltà fossero così tante. Abbiamo pagato un girone d'andata con un trend quasi disastroso, solo 10 punti in 17 gare. La bravura e anche un pizzico di fortuna ha voluto che nella seconda parte della stagione abbiamo quasi triplicato il nostro punteggio. Il solo trend nel girone di ritorno ci vede al sesto posto. Appunto, pensavate dopo il girone d'andata di salvarvi senza play-out? Ma noi nel nostro animo, nel nostro cuore ci abbiamo sempre creduto, i dirigenti, chi ci è stato vicino. È stata dura ma ha fatto un applauso ai ragazzi che non hanno mai mollato, hanno fatto davvero un girone di ritorno importante con vittorie decisive anche in trasferta. Una salvezza che vale quanto alle due promozioni? Sì, sì, ho sempre detto questo ai ragazzi nei momenti in cui eravamo lì per la salvezza matematica, che questa salvezza vale più di un campionato vinto, di dei play-off, di risultati che avevamo raggiunto negli anni precedenti. Grazie. Grazie.